Tutto cominciò 15 anni fa. Via La Chiusa è un tratto di strada di Molina Terno, ormai divenuto noto. Per una serie di interventi in campo edilizio la strada è ridotta ormai un imbuto, creando problemi di circolazione e disagi e la situazione non sembra avere una soluzione concreta. Per sollecitare la messa in sicurezza di Via La Chiusa, Del Chiedicato annuncia una forma di protesta pacifica. Comincerà il prossimo lunedì lo sciopero della fame, un digiuno di dialogo. Come mai si è arrivato a questo tipo di scelta che sostanzialmente è una protesta non violenta. Questa è una via nata da un'autorizzazione privata, è stata poi inserita nel piano regolatore e mano a mano che si costruiva, si adeguava, si ristrutturava, si urbanizzava, finché gli ultimi 40 metri si dice che sono diventati privati quando da 40 anni in pratica il comune ci fa manutenzione, ci ha portato acqua, luce e tutto il resto. Quindi questa cosa, siccome oltre quel ipotetico imputo che stanno realizzando ho altri possedimenti, io e la mia famiglia, avere una strada di 5 metri come l'ha acquistata mio padre, vedersela ridurre a 3 metri insomma non è piacevole. Una spogliazione dei diritti, una forma di protesta che va avanti ormai da 15 anni or sono, credi questa volta di raggiungere il tuo obiettivo? Io mi auguro, siccome comunque gli amministratori sono degli amici, a prescindere dal caso, sono degli amici che credo abbiano capito, compreso che c'è comunque un piano regolatore che gli amministratori spero vogliano far rispettare. Gli amministratori hanno mai aperto conto in dialogo? Io voglio che il comune stabilisca i confini che abbiamo concordato nel 2010, poi se la mettere in sicurezza mi farà piacere, ma è un problema di chi ci abita, perché io dopo l'accordo fatto, me ne sono ritornata sul Mono, perché ho detto vabbè, per me sta a posto, il comune mi garantisce dei confini che non costa metterli perché ci sono già gli fabbricati, basta stabilire i 4 metri, per quanto riguarda la sicurezza, ripeto, se l'adegua non mi fa piacere, ma è un problema di chi ci abita e che dovrebbero loro impegnarsi per farlo realizzare. Un atto di coraggio, lo sciopero della fame, al via lunedì, sei seguito da un medico, perché bisogna anche stare attenti alla salute. Certamente ne ho parlato con il mio dottore, il quale mi ha rassicurato, mi ha tranquillizzato, anche perché mi serviva questa rassicurazione per tranquillizzare la mia famiglia che in questo periodo non è proprio contenta delle mie decisioni, però io ho un impegno morale con mio padre e loro hanno capito che sarò deciso nell'andare avanti.